Salve a tutti, sono Malcolm Rossi, Product Specialist OPP di Canon Italia. Sono qui per presentarvi PIXMA IP6000D. Con PIXMA IP6000D hai a disposizione un vero e proprio laboratorio fotografico. Grazie alla tecnologia Fine e alla risoluzione di 4800x1200 dpi e al sistema di stampa a 6 colori, per un'eccezionale qualità di stampa fotografica. Potrai stampare tutte le tue foto anche senza l'uso del PC, grazie ad una connettività completa. IP6000D è infatti dotato dello standard PIXMA IP6000D per la stampa diretta da fotocamera digitale compatibili, dell'interfaccia IRDA per la stampa da tutti i cellulari compatibili e di un pratico lettore per scheda di memoria. Inoltre, grazie al display LCD e a colori da 2,5 pollici integrato nella stampante, è possibile non solo selezionare e stampare le foto preferite, ma persino elaborarle. IP6000D è anche dotato di un avanzato sistema di gestione dei supporti, un doppio vassoio di alimentazione, un'unità per la stampa fronte-retta automatica e stampa su CD-ROM e DVD. La qualità di stampa che caratterizza IP6000D è accompagnata dal sistema Single Ink, un sistema dove tutti i sei serbatoi di inchiostro sono separati e trasparenti per ridurre gli sprechi al minimo. Malcom Rossi di Canon Italia vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.